Un kit medico di fondamentale importanza che serve ad alimentare un bambino direttamente dalla pancia, un sistema di tubicini che andrebbe cambiato al massimo ogni tre mesi e che la sanità pubblica tarda invece a fornire. La denuncia ancora una volta della signora Dumitrescu che chiede aiuto per suo figlio Cristian, un caso che abbiamo trattato più volte in passato con riferimento ad altre forniture di fondamentale importanza come ad esempio quelle delle siringhe o delle garze date poi in parte anche da volontari, così come parte dell'assistenza sanitaria. Oggi il muro della sanità pubblica si alza inspiegabilmente per la fornitura di un kit che per il piccolo Cristian significa sopravvivenza ed oltre al danno c'è la beffa perché alla farmacia della cittadella ASP dell'ex Mandalari di Viale Giostra che dovrebbe fornire il materiale sanitario in questione sono disponibili soltanto misure del kit superiori a quelle specificate nelle richieste, rinnovate peraltro ogni sei mesi. Clamoroso dunque che il kit che si chiama Kimberly Clark nonostante l'evidente bisogno del piccolo Cristian e le richieste scritte non sia ancora arrivato. Avremmo voluto chiedere spiegazioni alla farmacia della cittadella dell'ex Mandalari ma ci siamo imbattuti in un altro disservizio, al telefono del reparto specifico non risponde nessuno.